Voglio presentare quindi il progetto che si chiama Noi Sicuri, avete visto sul Contrada San Giuseppe, ho avuto a mandare le lettere perché alla fine una parte del progetto ha interessato in maniera diretta il Contrada San Giuseppe. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto la fortuna di incontrare qui in azienda un gruppo di aziende di cui CESEL oggi è rappresentata qui da Paolo Goglio. Perché la fortuna? Perché è un gruppo di aziende che stanno lavorando in Italia per capire come poter fare prevenzione su quello che è la sicurezza stradale. E ha messo su un progetto complesso che si chiamano Sicuri, di cui andremo a vedere tutta la sua complessità come progetto, di cui l'obiettivo è quello di fare, di rendere più sicuri i territori dal punto di vista della viabilità. E quindi alla fine andremo a vedere tutti gli aspetti di noi sicuri, cui non è l'unico obiettivo, è quello della sanzione. La sanzione è l'ultimo elemento del progetto e il meno importante del progetto stesso. Quindi alla fine l'obiettivo è di fare vera prevenzione. A volte io capisco che quando si dice mettere su un sistema che alla fine c'entra qualcosa, anche il velomatic o il famoso autovelox, allora il sindaco a missione comunale è meno credibile quando parla di prevenzione perché subito viene in mente la sanzione, viene in mente la multa, quindi subito si dice se addossa alla missione comunale l'idea di voler far cassa, quindi di quadrare il bilancio attraverso l'utilizzo del velomatic o l'utilizzo dell'autovelox. In realtà noi abbiamo ricercato qualcosa di diverso e alla fine che facesse più prevenzione che sanzione. Non abbiamo nessun obiettivo come missione comunale, quello di fare cassa attraverso il strumento della sanzione. È l'ultimo obiettivo che ci diamo, è il meno importante e noi diciamo anche che tutto quello che sarà l'entrata comunale sulla sistema sanzionatorio sarà rinvestito sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza dei cittadini. Questo è l'impegno che prendiamo anche perché per far capire che l'obiettivo non è quello di quadrare le spese correnti con l'estrumento della sanzione. Quindi l'ultimo aspetto è quella della sanzione, quindi Paolo dirà nelle sue slide, anche nel filmato che ho preparato, che cosa consiste in un sicuro. E oggi voglio dire qualcosa in più. Noi ne parlavamo per la scuola l'altro giorno facendo un progetto di educazione civica per i bambini della scuola della seconda media. Oggi viviamo in un sistema di regole di cui c'è democrazia quando alla fine ci diamo una serie di regole in cui partecipiamo tutti alla scelta delle regole e alla fine tutti quanti, siccome partecipiamo tutti la scelta delle regole, alla fine ci diciamo anche che dobbiamo condividerle e poi che altro dobbiamo rispettarle. Uno di questi è sicuramente quello dell'utilizzo della viabilità. Quindi una delle regole che ci diamo è quella del rispetto del limite di velocità, che non nasce a caso il limite. Oggi capisco che viene percepito, il limite di velocità non viene più percepito. Al fine nessuno di noi guarda con attenzione il limite del 50-70, qual è il limite di velocità su quel tratto di strada che sta percorrendo. Quindi perché magari siamo distratti dentro la macchina, perché non diamo importanza a quello che potrebbe succedere su quel tratto di strada in cui andiamo a non rispettare una regola, una regola che ci siamo dati. Quindi io ti do la parola a te Paolo, perché non voglio tolti di spazio, quindi ci torno dopo, dopo la tua presentazione del progetto Noi Sicuri. A te Paolo. Ecco che è nata l'idea praticamente di sostituire il vigile con uno strumento che fosse un vigile costantemente presente sulla strada. E qui vedete proprio rappresentati questi strumenti che avete visto installati anche sul vostro territorio, che di fatto simulano la presenza costante sul territorio di un vigile. Quello che avviene in questo caso, quindi all'utente che arriva 80 all'ora, vede il primo vigile, rallenta, va piano, prima che possa ripartire a suo piacimento, trova un secondo vigile, piuttosto che un terzo e via dicendo. Questo fa sì che l'utente sia invogliato praticamente a tenere la velocità bassa lungo tutto il tratto della strada. È evidente quindi il diverso livello di efficacia, anche perché quando il vigile smonta la sua apparecchiatura, lì è la giungla, cioè non c'è più nessuno. In questo caso invece 24 ore su 24, perché avete visto sono anche illuminati di notte, la sensazione del controllo è costante. Voi vi chiedete, ma le multe? Le multe dipendono da con che frequenza l'amministrazione decide di farle. Quindi il risultato però di questa prevenzione è completamente indipendente dal numero di multe. Ne faccia una, ne faccia dieci, ne faccia mille, l'importante è che l'utente abbia la percezione di essere controllato, come peraltro deve essere, perché comunque sulla strada io mi devo comportare in modo corretto. Vi do anche i risultati a questo punto del monitoraggio fatto su questo tipo di tecnologia. Quindi su mille veicoli in questo caso abbiamo fatto un esperimento più prolungato. Sulla prima cabina monitorata il 3% del campione infrangeva la legge, quindi andava più forte del dovuto. Alla quarta o quinta cabina, quindi alla fine della serie, quando mai l'utente aveva visto che c'era una serie e quindi aveva capito che non tirava buona aria, solo il 2% addirittura andava a infrangere in pratica il limite stradale. Credo che in questo caso l'obiettivo sia raggiunto sia in termini di prevenzione, perché gli utenti sono a tipiano, ma anche in termini di sanzione, perché se anche l'amministrazione avesse deciso di sanzionare tutti coloro che passavano in questo momento eccedendo il limite, quante multe avrebbe fatto? Avrebbe fatto 20 multe su mille passaggi, quindi un numero molto basso, molto lontano dai numeri di cui si sente parlare, anche in questa provincia recentemente. Questo secondo me incarna la logica di un controllo moderato, un passaggio giusto da parte dell'ente senza la finalità delle sanzioni. Per cui lascio la parola, poi la riprenderò per vedere poi le soluzioni tecniche anche che abbiamo deciso di adottare con i comuni. Allora, sì, buonasera a tutti, come ha detto Paolo, io mi chiamo Valentina e sono una dottoressa in scienze psicologiche. Immagino che ora la maggior parte di voi penserà, ecco, ci mancava anche la psicologa con la ramanzina per concludere la serata, però vi assicuro che non è assolutamente quello che intendo fare, il mio sarà un intervento veramente molto breve, perché poi lascerò subito la parola a Paolo, perché comunque la parte tecnica è quella che interessa sempre di più. Però quello che ci terrei molto a farvi capire in questa serata è quanto sia importante in realtà curare e promuovere proprio un'etica della sicurezza stradale, perché purtroppo la realtà di ogni giorno ci mette davanti a delle variabili incontrollabili, come sono appunto gli incidenti stradali, in cui purtroppo perdono la vita moltissimi utenti della strada o comunque si mette a repentaglio la vita di altre persone. Allora, Bellaghioma Domenico ci chiede, ma come si può affidare la sicurezza a una ditta privata che ha scopri di lucro? Allora, noi alla ditta, quando parliamo del Comune, non ha esternalizzato non ha esternalizzato il problema sicurezza al gruppo della CESEL. Il Comune ha preso l'innovazione, ha preso una parte dello studio CESEL, quindi l'innovazione del CESEL e l'ha applicato al suo proprio territorio. Alla fine tutta la sicurezza chi decide è sempre il Comunale, è il nostro Comune che ha deciso quali sono i punti di monitoraggio, i punti di rilevazione, quindi in quali punti del Paese andremo a monitorare, a trutturare, il contratto, appunto c'è un contratto di noleggio, quindi la ditta CESEL ci dà il noleggio del Totem e finisce con il noleggio del Totem. Alla fine il Consiglio Comunale deciderà come poter procedere alla rilevazione della rilevazione, alla rilevazione assisterà, quindi deciderà in piena autonomia, anche qui lo dico, non sarà nemmeno la Giunta o il gruppo di consigli di maggioranza oppure il Consiglio Comunale a decidere come dovranno essere fatte le rilevazioni sulla nostra strada, ma sarà in piena autonomia perché al fine è giusto così che l'Ufficio della Polizia Municipale, quindi come nostro Comandante, decida in piena autonomia quali debbano essere i momenti di rilevazione e come deve essere fatta la rilevazione delle nostre... Grazie a tutti! Grazie a tutti!